Onorevole Barbato, il suo tempo è scaduto, grazie. Mi permetta di dire che il suo intervento dimostra in primo luogo quanto sia democratico il nostro regolamento, che consente a tutti coloro che chiedono la parola di avvalersi del diritto di parlare. Prego, comunico che l'Ufficio di Presidenza nell'odierna riunione ha preso in... Prego, Presidente Casini, su cosa? Il nostro regolamento è democratico, ma questo intervento non andava consentito, signor Presidente, perché non è sull'ordine dei lavori. Onorevole Casini, lei ha presieduto questa Assemblea e sa perfettamente che il Presidente non ha la capacità di prevedere che cosa un collega si accinge a dire. Nello stesso momento in cui ho più volte richiamato l'Onorevole Barbato a rispettare i cinque minuti di tempo che aveva a disposizione, presumevo che l'Onorevole Barbato, che conosce bene il regolamento, immaginasse anche che doveva entrare sul tema e quindi parlare sull'ordine dei lavori. Non è accaduto, ma succede. Grazie.